Chi è che fa paura al lupo? Questa mattina appena sveglio, al lupo è venuto il singhiozzo. Oh, un topolino passa vicino al letto. Il lupo ha tanta paura dei topi, ma la paura può fare sparire il singhiozzo. Il lupo non si è spaventato abbastanza. Il lupo decide di andare dai cacciatori. Loro sì che gli fanno una gran paura. Il lupo fugge via a gambe levate, ma... Uffa, ancora il singhiozzo. Il lupo non ha altra scelta. C'è solo una persona che gli fa più paura dei topi. E ancora più paura dei cacciatori. La strega cattiva. Sulla via che porta alla baracca, il lupo trema per la fifa. Ci penso io a spaventarti, urla la strega cattiva. Il lupo terrorizzato resta a bocca aperta. Funziona? La paura ha fatto sparire il singhiozzo? Oh no, non ancora! Il lupo è disperato. Il singhiozzo non se ne andrà mai più. Buu, 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 buu. E' davvero disgustosa, ma funziona. Il lupo non ha più il singhiozzo. Per ringraziare la strega cattiva di averla salvato, le dà un bacio. Il più grande bacio del mondo. Smac! Ma guarda un po'. Il bacio più grande del mondo riesce a trasformare la strega cattiva. Il lupo è incantato dalla sua bellezza. Che sorpresa! Oh no! Il lupo ha di nuovo il singhiozzo.